Rinaldo Melucci per ali e radici per la Terra Ionica 2050, coalizione di centrosinistra contro Ignazio Punzi per il progetto comune e l'Alleanza di centrodestra. Saranno i sindaci di Tanato e Montemesola a sfidarsi il prossimo 18 settembre per l'elezione alla presidenza della provincia di Taranto. Il termine per la presentazione delle candidature è ormai scaduto. La candidatura di Melucci era nota da tempo, quella di Punzi è arrivata dopo la rinuncia all'ultimo minuto di Allafredo Longo, sindaco di Marugio e attuale presidente facente funzione dell'ente. In una nota Longo motiva così la scelta e il mio comune avrà ancora più bisogno di avere tutta la mia attenzione e non posso permettermi ulteriori distrazioni e definisce assurda l'attuale normativa che non permette ai cittadini di esprimere direttamente il proprio voto. Il no di Longo ha propiziato la scelta da parte del centrodestra di Punzi. La documentazione ufficiale è stata presentata a metà mattinata nelle mani del segretario generale. In un paio di giorni si procederà alla verifica degli incartamenti proposti da entrambi i concorrenti. Dopo la rottura con la centrosinistra e il ritiro della propria candidatura, resta al margine della contesa il sindaco di Grottaglie Ciro Dalò, che ha già annunciato la volontà di uscire dalla coalizione terraionica anche con il consigliere di riferimento Marangella. Ma potrebbero esserci altri dissidenti.